Lata sui 1100 metri, partiti. Lottano Cap Dubai, Class Life, ridosso Morgante, Akzenkat, Kind Girl, Leo Forever, poi il diseredato. L'andatura è buona quando si va ad affrontare la piegata con Cap Dubai che è a mezza di vantaggio nei confronti di Class Life. In terza corsia, Kind Girl, con stretto contatto Akzenkat in corda Morgante, poi Leo Forever a 10 lunghezze circa, segue diseredato. Cavalli che completano la piegata, si entra in retta d'arrivo con Cap Dubai sotto la pressione di Class Life che avanza per linee esterne. Quindi Kind Girl, Morgante, Akzenkat, Leo Forever che preferisce linee interne, cavalli ai 200 conclusivi con Class Life a centropista. Deve subire l'attacco di Morgante che ci prova a largo per linee interne, Leo Forever. A largo Morgante per linee interne, Leo Forever, Leo Forever, pizzica Morgante, poi Class Life. Leo Forever all'interno, Leo Forever, salvo Basile, riesce a pizzicare Morgante. Andiamo a rivedere le battute finali con Leo Forever che cambia azione a 150 dal traguardo, preferisce linee interne. Morgante invece avanza a largo, ha ragione di Class Life, ma poi nei metri finali deve fare i conti con Leo Forever. Leo Forever all'interno riesce a prevalere, questo è il mio punto di osservazione ovviamente, per i colori dell'RFG. Tre vini di Vincenzo Caruso in sella, salvo Basile, Leo Forever.